Eccola! Plano eh! Ho visto l'attesa! Eccola! Sopra! Non ci siamo così! Giù passate giù giù! Eccola! 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 È alta anche questa! E' alta anche questa! E' alta anche questa! Devo fare più di sì! Eccola! Eccola! Quante è una? Una! E passa passa! Quanti è più! Abbiamo a 30 mesi! Pronto? Voglio? Vai! Cade! Va! Va! Sai che ho l'idea che non fanno le calcette? È un 4-5! Guarda quanti sono venuti! Ne veniamo una decina! Pronto! Pronto! Vedi quel pifferone? Eh Dio calma! Eccola! Pronto! Vai! E' un 4-5! Un 4-5! E' un 4-5! E' un 4-5! E' un 4-5! Un 4-5! E' un 5-8! E' l'14! E' un 5-5! E' un 5-6! guarda guarda ecco ecco la cedera pronto? vai non è via dietro pronto? vai vai Porco io, entra, pronto, vai, non vai, entra, la tua sinistra, eccola ti viene in bocca, vai, 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 vai Grazie a tutti